Il mondo del turismo in tema di digitalizzazione deve affrontare una sfida importantissima, una a livello mondiale, nel senso che dobbiamo tentare di fare in modo che la digitalizzazione non costituisca il passaggio definitivo alla disintermediazione, perché abbiamo una enorme quantità di addetti ai lavori del turismo che perderebbero attività commerciali, perderebbero lavoro e oltretutto esiste una forte esigenza ancora constatabilissima da parte del cliente di avere un appoggio, una consulenza nel momento dell'acquisto. Esiste poi una sfida italiana che è quella di ottenere la digitalizzazione anche in situazioni nelle quali rimane più difficile, perché la digitalizzazione comporta investimenti estremamente importanti, se deve essere fatta seriamente, e la tipologia per esempio delle strutture albergiere italiane, la maggior parte delle quali sono individuali e piccole, non può affrontare l'investimento importante che comporterebbe digitalizzare totalmente la propria struttura.